Noi abbiamo tanta fiducia per la partita di domani perché sappiamo quello che possiamo fare e domani lo facciamo. Troveremo sicuramente una squadra, come ho detto, che giocherà ad alta intensità, ma noi vogliamo giocare ad alta intensità pure noi. E come ho detto, la partita sarà determinata dalla capacità che noi avremo di imporre la nostra strategia sulla partita. È un avversario difficile, è un amico, è un allenatore che ha grande esperienza e le sue squadre sono proprio le sue, nel senso che hanno una chiara identità. Sono squadre molto dinamiche, molto aggressive in fase difensiva, che verticalizzano molto in fase d'attacco. Siamo da considerare che giochiamo a casa e quindi sappiamo quel tipo di aiuto che ci può dare il tifoso nostro. Il test è molto difficile perché non avremo molto tempo per pensare a quello che vogliamo fare sul campo, ma quella è la chiave. Sulla carta il Paris Saint Germain penso che vincere la partita in casa, credo che su questo non ci sono molti dubbi, ma onestamente non è che penso molto a quello se il Paris vince contro la Stella Rossa.